bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi siamo su splatoon 2 e vedete cosa si sta puntando la salmon run perché oggi la domanda mia è ma la salmon run su splatoon 2 nel 2024 anche un motivo di esistere è ancora giocata ricordo una cosa importantissima la salmon run è una modalità tempo ciao meri la salmon run era una modalità a tempo c'è tipo non era disponibile 24 e su 24 ma aveva dei turni chiudeva tipo ogni 48 ore la sessione di pausa assonzata è assonzata diciamo sì e no non è assonzata ma è assonzata perché è giusto che sia secondo me modalità che non è sempre disponibile c'è la gente per giocare a salmon run splat 2 ricordo cos'è la salmon run di splatoon 2 poi a salmon run di splatoon 3 togliete qualche cosina spigliatela avete la salmon run di splatoon 2 con i boss ma per le mappe ci stanno i boss ci stanno il 3 aggiunto roba tipo il lancio dell'uovo il lancio dell'uovo è una cosa esclusiva la salmon run di splatoon 3 con tutti rispetto lanciare l'uovo è una roba a cui non mi sono abituato subito e ora mi devo disabituare mo che giocherò la salmon di splatoon 2 signori è crashata una persona se n'è andata perché non voleva fare in salmon run in 2 faremo salmon run in 2 felicità questo gioco è proprio uno schifo modestamente fortino fumino non mi ricordo sicuramente poco la salmone ovviamente le uova sono contate in base al numero di persone sembra che è una bella esperienza fare il salmon run da solo una bella esperienza fare il salmon run da solo o in due o in quanti si è uuuuhx uuuuhuuhh uhuh un venuto lo che amù vabbè non more però porco dio ovviamente non c'è il puso dello schifo Eh vedi Eh si vince Forse in due è facile Forse in due è facile Ah si non ce l'ha visto L'ultimo giocatore Lo si vede Da uno schermetto In realtà No merda 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 Si può giocare la summon Si ma no Si può giocare si ma no Vieni qui coglione Orgo dio No 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 Dove cazzo è andato Dove cazzo è andato Dove cazzo è andato Merda Dove 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 Vinta Che rischio fa E fu il basso di un fine duro Eh abbia fatto 10 uova I banciuti Davi vanciuti Una volta Si è chiesto triplo Oh madonna mia Abini Ok E qui Sebbe una bella ondata Facile Non può dire solo 6 uova Sebbe una ondata semplice C'era Posso fare così Eeeh Quanto non è che hanno fatto la roba che tipo Che non si è qua Mamma mia C'è quello che hanno fatto sta roba Il calzomonoide ha vissato Eh la madonna quanti salmonoidi Quanti salmonoidi Quanti salmonoidi Beh è fortissimo Eh però mi stacca Cazzano i coglioni Oh ma non è dai Dai Poi avvicinarà alb Poi avvicinarà alb Nooooo Ivanciuti Non ce l'ha fatta Ivanciuti Ivanciuti Dai Ivanciuti La salmoran di Splatoon 2 Ormai è morta e sepolta Qualche si vede Basta vedremo Salmoran morta e sepolta La salmoran da solo Splatoon 2 Puoi fare la salmoran da solo Puoi confrontarti Per non ti bot Se muoio Sono morto Cioè se muoio Sono scemo Non so quanto durerò Modestamente Però Si può fare Idra Ho perso la prima Botta Ho perso la prima Ho perso la prima Ho perso la prima Ho perduto solo due uova Adesso muoio di nai Quale No Scusate Allora Modestamente È un po' Infamello Eh Non ho detto che Infame Ma pure Adame l'idrante Ma pure Dato l'idrante Ma dato pure Questo è nemmeno un nuovo Mio vi licencio Bro Mi mani da solo Contro Le persone Con un idrante Con l'idrante Ma hai mannato Ma hai mannato Con l'idrante No Cioè mi manda Con l'idrante E si sorprende Che ho fatto Cacare Cioè mi ha mandato Con l'idrante E si è sorpreso Che ho fatto Cacare Sai Dorder Perché cazzo Ciao Perché cazzo la gente Pensa a Sai Dorder Su spado 2 Non ho bonus da ritirare Bellissimo Quindi La Samoran Su Mergtoon 2 Vale la pena No Sai Dorder Ma basta Sai Dorder Ma perché Sai Dorder Capite Questo è gioco Di riferimento Per Sai Dorder Con tutta la piazza Però Minchia Si non ho ancora Preso Il pesce scossa Nell'account Principale L'ho fatto Con un'altra Account Lo trovate Proprio qui La playlist In cui ho fatto La storia Signori Noi ci vediamo A un prossimo Contenuto Adios ragazzi Non giocate La Salmon Di Splatoon 2